Se eravamo la squadra che più ci ha impressionato qui al Gali Indie, dove trovavamo un difetto? Questo mi fa piacere, era un obiettivo che avevamo all'inizio dell'anno, quello di cercare di dare qualità al gioco e poi sta venendo anche tanti risultati, quindi veramente siamo molto soddisfatti. Oggi è chiaro che abbiamo fatto una partita giusta, con l'attenzione giusta e effettivamente poche sbaglature, complimenti ai miei giocatori. Questa è la propria senzala, come si aspettava? Ma guarda, io li ho visti in diverse partite, loro hanno una grande qualità sulle ripartenze che oggi li abbiamo curati con molta attenzione, i loro vertici, per cercare di non farli ripartire, perché quando poi acceleravano con una palla libera, lì potevano essere pericolosi. È chiaro che però giocare contro il Terro oggi non è facile. Soprattutto con la due.